Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube e sulla mia pagina facebook o in questo video oggi vi voglio parlare di una domanda che mi è stata fatta quando ho postato un video che riguardava la mia ricomposizione o quando ho posto le mie foto su instagram se volete vedere qualcosa di più sui risultati della mia ricomposizione basta che mi seguite su instagram, basta che cercate Alessandro Mainente e mi trovate su instagram, lì c'è un po' di tutto video che faccio ai miei allievi, esercizi che faccio io qualche foto della ricomposizione, qualche foto particolare e via dicendo, però è un po' più scollegato rispetto al mio canale youtube e alla divulgazione che faccio sul canale youtube e sulla mia pagina facebook ok, un po' più mettete come lo svago una roba del genere quindi la domanda che mi era stata fatta è ma perché come avevi fatto a arrivare a pesare 90 kg? allora diciamo che la cosa è abbastanza complessa però sostanzialmente dovete pensare a cosa succede quando voi ingrassate sostanzialmente siete in una condizione di surplus calorico quindi o mangiate una quinta lata di roba e state fermi sul divano o semplicemente voi mangiate non necessariamente una quinta lata di roba ma non vi allenate neanche nel modo adeguato quindi sostanzialmente quello che è successo a me inizialmente è che io non mi allenavo nel modo adeguato per poter andare a bilanciare quello che era l'introito calorico la fesseria poi più grande che ho fatto è stata pensare di poter costruire massa magra da solo e senza avere necessariamente le competenze per farlo e questa è stata la seconda cagata che ho fatto ok? quindi il primo sostanzialmente non allenarmi per quello che mi era l'introito calorico e poi cercare di fare costruzione di massa magra muscolare ok? perché ovviamente la massa magra comprende sia il tessuto muscolare sia anche il tessuto adiposo che si trova in loco cercavo di costruire il tessuto muscolare senza avere le competenze per farlo quello che è successo è stato un aumento delle calorie probabilmente non adeguato, eccessivo e questo mi ha portato ad accumulare altro grasso questo è ovvio quindi è ovvio che se vedete dei video dimostrativi sul mio canale youtube dove sono ancora una palla, una palla sostanzialmente una grossa polpetta un grosso donuts l'omino michelin ok? è perché quei video risalgono a prima di tutto questo lavoro che sto facendo adesso ok? questo è un pochino il succo del discorso e sostanzialmente mi sono trovato nella situazione di accumulare tanto peso e probabilmente sicuramente un pochino di massa magra massa muscolare scusate l'ho messa su però c'era anche troppo tessuto adiposo quindi sostanzialmente è stato un pochino una cosa ingenua ma determinata dal fatto che non avevo le conoscenze per poter gestire tutto quello che riguarda la parte estetica perché poi per dimagrire e mettersi a mille calorie al giorno sono capaci tutti il discorso magari è dimagrire ma fare una cosa che sia un attimino vivibile che sia leggermente più sociale che vi permetta di non essere stressati dalla mattina alla sera questo è un pochino il succo del discorso e in quel momento io ho capito che non avendo le competenze per farlo forse era il caso di affidarsi ad un'altra persona e fortunatamente per me questa persona era Angelo che lavorava direttamente nella palestra quindi se posso dirvi una cosa quella è stata la miglior scelta che io abbia mai fatto e se volete se aspirate a raggiungere dei risultati simili a quelli che ho avuto io l'unica cosa che potete fare è solamente contattare Angelo e basta che cercate Angelo D'Alessandro oppure D'Alextraining su Instagram o Angelo D'Alessandro su Facebook dovrebbe avere una pagina come pare che sia Angelo D'Alessandro Natural Picking Coach e tutto qua va bene? quindi in realtà è stata un po' una cosa ingenua legata alle mie poche conoscenze in quell'ambito ma sicuramente non certo perché mi allenavo male o sicuramente perché per scelta decidevo di mangiare male perché sono sempre stato uno che negli ultimi 3-4 anni anche se qualcosa di più ha sempre contato ogni singola caloria di quello che mangiava ma come vedete il risultato è sempre un mix una conseguenza del mettere insieme approcci corretti come un'alimentazione corretta e un allenamento adeguato per quello che è il vostro risultato e per quella che è la vostra alimentazione in quel momento va bene? ciao ragazzi